a tutti un caro benvenuto carissimi amici e amiche in questa nuova puntata del ciclo di catechesi vizi e virtù questa è la numero 19 abbiamo già analizzato nelle puntate precedenti con l'aiuto del signore le prime tre virtù teologali e primi due vizi capitali quindi fede speranza e carità e superbia avarizia alternando ecco per non doverci attossicare troppo con con i veleni del male alternando una virtù a un vizio in modo tale che dopo che ci si attossicati con un vizio poi si respira un po di aria buona con con la virtù ecco adesso arriva il tempo di un tossico abbastanza fastidioso ecco che speriamo la quaresima in cui cade questa questa dissertazione così questa conversazione su questo vizio ci aiuti a smaltire e a digerire ecco con una certa disinvoltura senza rimanerne ecco troppo ammorbati attossicati perché il tema certamente non è di quelli leggeri perché dobbiamo affrontare il vizio capitale della lussuria il terzo sappiamo che nelle cose fatte dall'altissimo c'è sempre un ordine quindi l'ordine la sequenza delle virtù e dei vizi così come dei comandamenti per esempio non è casuale cioè il primo dei vizi capitali è la superbia quindi vuol dire che l'avaro è superbo il lussurioso è superbo il racconto è superbo quindi perché sono delle delle spire quindi che significa si leggeramente il lussurioso sicuramente sarà superbo e quasi certamente è prostrato attaccato al denaro e agli idoli del mondo dobbiamo tener presente queste cose ecco perché come per esempio non può esistere la carità senza la fede la speranza mentre invece la fede la speranza possono esistere senza la carità purtroppo come abbiamo visto no perché rimangono vuote non giovano alla salvezza perché la fede la speranza senza la carità la fede morta di cui parla san giacomo la fede senza senza le opere non giova andare in paradiso ci vuole la fede animata dalla dalla carità ecco così teniamo presente che mano mano che si va avanti il cerchio si completa diciamo anche dalla parte tenebrosa dalla parte del male no introduciamo quindi questo vizio in questo modo ecco facendo una piccola overture poi magari questa sera cerchiamo anche vorrei cercare anche di andare a vedere qualcosa come sempre rispettando un po la gerarchia delle fonti di quello che dice la sagra scrittura per riguardo perché c'è un cliché riguardo il vizio capitale della della lussuria un cliché che peraltro negli anni passati neanche troppo lontani è stato oggetto anche di qualche dissertazione da parte di qualche sprovveduto showman che ha ritirato fuori l'argomento già tra l'altro tipico dei nostri fratellini più poveri perché che si chiamano testimoni di geova che dicono che ama l'antico testamento il sesto comandamento dice non commetterà adulterio e basta quindi tutte quante le altre stupidaggini che si è inventata la chiesa non ci sono nella nella bibbia c'è il sesto comandamento che dice non commetterà adulterio quindi tutto il resto sarebbe rescito questa cosa non è che è del tutto sopita a quanto mi riguarda quindi avremo modo di smontarla subito subito presentando una breve rassegna biblica non ci vuole neanche tanto insomma che mostra come l'argomento è del tutto infondato perché dato che parola di dio l'antico così come il nuovo vedremo san paolo soprattutto ma non solo ci stanno anche san pietro e san giuda che che dicono qualcosa come parlano di alcuni comportamenti direttamente dipendenti dal vizio capitale della lussuria ora perché questi tre vizi diciamo che come dire la lussuria completa un po la sorta di trinità inversa no mentre la fede la speranza e la carità sono una sorta di infatti sono tre le virtù teologali di come dire piccola trinità applicato nel campo delle virtù così la lussuria è completa il numero tre che è un numero significativo nel campo del mondo del male perché qui si tratta fondamentalmente di un di un mondo allora ci sono gli uomini che hanno come ideale e progetto di vita il conseguimento della felicità terrena il super uomo di niche tanto per dirne uno che oggi purtroppo è diventato perfettamente compiuto è niccio è morto pazzo ma purtroppo sono stati fin troppo lucidi coloro che ne hanno raccolto in maniera consapevole inconsapevole l'eredità mettendola in pratica la lettera super uomo l'uomo pazzo nella gaia scienza il super uomo è colui che grida al mondo che dio è morto e che bisogna finalmente avere il coraggio di essere se stessi di essere veramente uomini quindi un uomo è fatto di terra un uomo è fatto di carne un uomo è fatto di di passioni e quindi questo questo super uomo che molta gente non si rende conto di chi sia nel super uomo non è come dire superman no no il super uomo è un è un omuncolo d'accordo cioè uno che si dà ai vizi in maniera sprocerata infischiandosene di due secoli di cristianesimo quindi dello spirito apollinio come dice insomma che ha il coraggio di far rivivere lo spirito dionisiaco quello che viveva nei baccanali nelle orge greche quindi ha il coraggio di vivere i valori della terra e quali sono che cos'è questa felicità terrena che cosa consiste anzitutto nell'essere qualcuno no nell'essere stimati nell'essere grandi nell'emergere sugli altri e questa che cos'è è l'eccellenza no ma la superbia è la brama della propria eccellenza come ricorderemo altra cosa l'autosufficienza non dipendere da nessuno ma avere beni e denari in abbondanza autosufficienza e quindi anche capacità di togliersi tutti gli sfizi se voglio la felicità terrena devo anche essere in grado di godermelo no o no e per questo ci vogliono i soldi e quindi abbiamo l'avarizia o ma tutto questo tende a che cosa a godere al godimento concedersi quanti più piaceri sensibili sia possibile e quanto più variegati e come dire diversificati siano tra loro fino a gustarne fino a sazietà fino a quando ti escono dagli occhi dal naso e dalle orecchie capiamo quindi subito come il terzo vizio capitale questa prospettiva chiude il cerchio del miraggio della felicità terrena a cui per la verità per quanto riguarda i piaceri sensibili manca solo la gola no che è l'ultimo tra l'altro vizio capitale con i piaceri della buona tavola che esauriscono il quadro di tutti i possibili codimenti fruibili in questo mondo ecco quindi la triade infernale quindi di questi primi tre vizi capitali dà luogo a quella che è una vera e propria idolatria di questo mondo tant'è vero che il demonio si chiama viene chiamato da gesù il principe di questo mondo e tra l'altro domenica scorsa questa catechesi capita proprio il giorno dopo la proclamazione nella prima domenica di quaresima delle tre tentazioni abbiamo ben sentito come il diavolo tu però stavi davanti a me io tanto queste cose te le do eh quindi vuoi potere vuoi soldi vuoi sesso vuoi godimenti accomodati basta che mi adori quindi e qui si tratta di una vera e propria prostrazione ecco al diavolo e ai tre serpentini totem serpentini perché ecco li ha eretti lui a forma di s guarda un po no s l'esse che già nella nella forma almeno in stampatello no la s proprio sembra un serpente perché è che dare del resto s è l'iniziale del serpente e la serpe malefica le tre s sono sesso soldi e successo si batti per esempio come nella parola sia nella parola sesso che nella parola successo ci stanno tre s come il 666 che è il numero della della bestia no e queste tre s polarizzano la vita se si preferisce ricordare un altro slogan queste cose l'ho detto tante volte quindi però quindi ripetiamo per perché è ovvio che questa è la sede propria questi tre totem polarizzano la vita le scelte verso i tre soli punti che comincia con la p fermi cioè le tre p del piacere del possedere e del potere ora la lussuria consiste nel godimento disordinato e contrario alla legge di dio e alla retta ragione dei piaceri del tatto legati all'esercizio della sessualità ed è vizio particolarmente degradante questo è proprio il vizio degradante uomo e avvilente in quanto lo abrutisce mortificando nella dignità di figlio di dio la sua nobile natura spirituale la sua vocazione è bene ben più grandi ed elevati dei godimenti dei piaceri della carne tanto per fare un po' di spot pubblicitari a carattere sacro gratuito nel circo di catechesi che ormai da un po di tempo parallelo a questo iniziato quest'anno sto tenendo sul sull'ipotesi della del rapporto tra la dimensione sessuale dell'uomo il peccato originale che tipo di relazione c'è già nell'analisi diverse volte abbiamo incontrato un testo che è quello di san luca della disputa di gesù con i sadducei sulla risurrezione dove questi uomini oppongono a gesù l'esempio della donna che in terra c'ha avuto sette mariti cominciano a dire ma se è vero che i morti risorgono come dici tu ma se ti può ma nella riservazione questa di chi è moglie e usando il termine moglie in senso stretto nel senso chi potrà vivere come moglie con questa qui dato che ce ne stanno sa se non stanno stati sette che sono morti insomma progressivamente l'uno dopo l'altro che facciamo la poligamia post resurrezione questo era il il senso della domanda ma gesù risponde figli di questo mondo prendono moglie e prendono piaceri ma quel prendono moglie prendono marito scusate ma quelli che sono giudicati degni della risurrezione non prendono moglie e non prendono marito dichiarando in questo modo che in paradiso non esistono questi piaceri nemmeno nella loro dimensione lecita e questo conferma il fatto che di per sé di per sé morrestando la loro liceità a certe condizioni non che la loro necessità per propagare nella condizione attuale la specie umana tuttavia né in quella congerie di godimenti perché il paradiso attenzione nessuno si scandalizzi anzi cioè mi raccomando è il paradiso è una come dire è una fabbrica in interrotta di godimenti di ogni specie di ogni tipo di che che noi non possiamo neanche lontanamente immaginarceli ma tu guarda un po ci sono tutti anche quelli ignoti e sconosciuti meno che questo addirittura se posso citare anche in questa sede un libro disponibile facilmente si trova anche su amazon che al di là del tempo e dello spazio bellissimo testo cosiddetto libro di tenera amata tenera amata tra le altre cose racconta qualcuno potrebbe fare qualche sorrisino ma c'è poco da sorridere che in paradiso ci stanno certe leccornie che fanno veramente leccare i baffi le dice che santi di altissima quota sono grandi cuochi celesti e che ci stanno liquori prelibatissimi e squisitissimi che per gli amanti insomma del dei buoni vini e dei buoni liquori non esistono in questa terra con la differenza che noto ubriachi però per dire questi piaceri che non sono certamente principali fanno parte della guerra occidentale secondo tenera amata esistono in paradiso ma anche secondo tenera amata che ovviamente va d'accordo col vangelo se no almeno per quanto mi riguarda avrei preso quel libro e l'avrei cestinato alla primo segnale di contraddizione anche tenera amata afferma chiaramente che non esistono queste cose qui perché cioè i beati non si abbasserebbero mai ad una cosa tanto bassa quindi questo bisogna tenerlo presente e quindi questo è il vizio degradante avvilente che comporta l'abrutimento che comporta la mortificazione della dignità dell'uomo soprattutto della dignità di figlio di dio tra i vizi capitali è senza dubbio quello di maggiore difficile controllo perché i piaceri venerei come sottolinea santo ammaso d'aquino ci torneremo sono i più violenti e quelli che maggiormente seducono e attraggono in maniera molto forte i desideri dell'uomo e quindi sottomettere alla legge di dio e quindi vincere impulsi della lussuria e il vizio della lussuria è impossibile senza il soccorso della grazia di dio evidentemente ma ci vuole anche un grande impegno ascetico corroborato dalla preghiera e da una fuga ferma e risoluta dalle occasioni di peccato ora a prescindere da tutte quante le altre cose che finisce così lo spot pubblicitario approfondiremo nel ciclo di categorie sul peccato originale certamente questo vizio è alimentato da una delle conseguenze principali che ci portiamo dietro con il peccato originale e questo è dottrina autentica ufficiale certa sicura sana della chiesa la lussuria è alimentata dalla concupiscenza in senso stretto la concupiscenza si si parla in teologia cattolica di concupiscenza o di fomite del peccato in due sensi un senso lato un senso più ampio dove con concupiscenza si intende l'inclinazione e la tendenza al male dopo il peccato originale che cosa succede succede che noi esseri umani siamo inclini più al male che al bene quindi facciamo molto più facilmente il male e molto più difficilmente il bene abbiamo questo fardello abbiamo questa condizione di menomazione abbiamo questo handicap abbiamo questi punti di penalizzazione a priori quindi questa è la concupiscenza in senso lato ma c'è poi la concupiscenza in senso stretto cioè non già la semplice tendenza inclinazione al male ma la viva e accesa vehemenza delle pulsioni sessuali più forte ordinariamente nell'uomo che nella donna e che sono schegge impazzite scatenate a volte con un nulla e addirittura a volte si scatenano e si accendono senza neanche una causa adeguata così buffete e che reclamano imperiosamente di essere soddisfatti a tutti i costi con ogni mezzo in ogni forma e attenzione che questo problema è un problema che riguarda tutti santi compresi nella seconda lettere corinzi tanto per cominciare a introdurci con il mondo biblico san paolo nel capitolo 12 si lamenta e prega il signore di liberarlo da quella spina nella carne da quel messo di satana incaricato di schiaffeggiarlo perché non montasse in supervie per la grandezza della rivelazione se ho pregato tante volte perché mi fosse tolto ma non lo è stato che dio non glielo togli ti basta la mia grazia che cos'era questa spina nella nella carne tradizione cattolica santo costino in poi non ha minimamente esitato a identificare questa spina con la passione dell'impurità quindi quindi l'impulso a compiere un atto impuro sotto la pressione della concupiscenza impazzita questo è la spina nella nella carne gli uomini sanno molto molto bene questo cosa significa il dotto origene tormentato anche gli da queste pulsioni pensò inopportunamente tuttavia di risolvere il problema applicando alla lettera cosa che non bisogna evidentemente fare il nota uforisma di gesù circa coloro che si fanno eunuchi per il regno dei cieli qui mutuo mi permetto di prendere un'espressione del maestro non è tanto difficile però chi può capire capisca ma basti per esempio ricordare per quanto riguarda noi italiani abbiamo due nostri grandi connazionali santi canonizzati che sono san benedetto e san francesco è che se si visitano il sacro specco di subbiaco e la porzione ancora nassisi si vedranno dei roseti miracolosamente diventati tali perché lì un tempo erano roveti la v al posto della s cioè fasci di rove in cui entrambi i santi evidentemente a circa 800 anni di distanza l'uno dall'altro si gettarono per vincere l'ardore della concupiscenza non ce la facevano più stavano per cedere contro la loro volontà e per far spegnere le passioni di che adesso vediamo se mi vado a buttare dentro le spine se non si placano i bollenti spiriti e miracolosamente per questo loro eroismo il signore permise che questi roveti diventassero ro seti a testimonianza per i posteri no tra l'altro san francesco invece cosa analoga raccontano le fonti sul monte della verna e con gli preso un'altra botta di questo genere e non c'erano le spine ma c'era la neve insomma lui già non era molto molto ben vestito nel senso di avere cose calde addosso ordinariamente ma ebbe insomma l'ispirazione di togliersi anche quel poco che ci aveva e quindi di rotolarsi in condizione adamitica tra la neve quindi lì certamente capite che le passioni si saranno sicuramente sbollite racconto queste cose perché ci rendiamo conto che qui stiamo dinanzi ad una bestia furiosa insomma da cui nessuno deve ritenersi esenti anche coloro che hanno ricevuto da dio per grazia e che non faranno e non staranno mai abbastanza in ginocchio per ringraziare siano devono essere assolutamente sempre sul chi va là perché mai come in questa materia vige l'aforisma paolino che diceva chi crede di stare in piedi badi di non cadere che cosa succede che tutti quanti dal momento della pubertà in poi sentono le passioni della lussuria e salvo una straordinaria grazia di dio cioè tornare preadolescenti cioè bambini evidentemente come disse gesù a nicodemo non nel senso che si ritorna indietro nel tempo ma che si acquisisce uno status fisico simile a quello che c'era prima della pubertà allora questo non è possibile senza una straordinaria grazia di dio e per chi ama e crede nella divina volontà comincia a sperare a pregare che uno dei dei possibili toni che arriveranno in questo regno sia almeno per chi lo desidera la possibilità di tornare a gustare la bellezza dell'essere bambini quindi non avvertire più quello che san paolo chiama lo stimulus carnis quindi lo stimolo della carne ripeto questa è una cosa del tutto straordinaria impossibile senza una grazia straordinaria di dio quindi approcciandosi a questo vizio la raccomandazione è profonda umiltà da parte di tutti coscienza che quando anche in forma latente quindi sotto forma di aree di 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 araba fenice per chi ha ricevuto il dono della castità nella forma della continenza per i vergini per i celibi se non stai come si dice nel parlare comune in campana in guardia questo folle vizio risorge vehemente quando meno te l'aspetti tipo trascinare in un mare di guai nessuno ripeto si trova al sicuro altra cosa da dire come premessa è che tutti quanti voi sapete che questo ce lo siamo detto all'inizio di questo percorso no i vizi sono tali perché altrimenti diventano cose etere perché dispongono al compimento degli atti che non sono altro che l'esplicitazione del vizio ora gli atti della lussuria essendo atti venerei in base a dottrina che qui in interrotta e costante e universale e la chiesa e dei suoi autori più provati ogni atto di lussuria posto in essere volontariamente è sempre un peccato mortale perché c'è un antico adagio che afferma che il re venerea non datur parvitas materie cioè nelle cose di venere cioè in queste le cose che afferiscono al vizio della lussuria non esiste materia lieve cioè se io faccio un discorso di stima propria tanto per fare un esempio quindi faccio il galletto che mi metto a evidenziare le mie supposte buone qualità davanti ad altre persone questa è superbia questa qui però il discorso di stima propria ha applicato alla superbia il classico ordinariamente peccato veniale un po' come il peccato di gola ecco però per quanto riguarda il terzo vizio capitale non c'è un equivalente del peccato veniale su questa materia appena ti vai a sporcare lo sporco è consistente e il male è grande quindi la lussuria pur non essendo il più grande dei vizi capitali che rimane alla superbia rimane però quello più difficilmente controllabile e il più pericoloso per le conseguenze nefaste che provoca sulla vita dell'anima la Madonna disse a Fatima che i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne ora passiamo alla parte biblica per introdurla ecco io dato che abbiamo fatto riferimento volante a Fatima ma volevo leggervi un aneddoto raccontato da Don Giuseppe Tomaselli penso che molti conoscano questa figura di straordinario sacerdote salesiano se non ricordo male ma credo di sì sacerdote esorcista tra l'altro morto in concetto di santità e che come spesso capita con gli esorcisti ebbe modo di raccogliere alcune confessioni estorte o meglio imposte ai demoni sotto la sferza dell'esorcismo bene leggersi qualche cosa insomma di questa testimonianza riportata in uno dei suoi testi e che è l'eco di quello che la Madonna disse a Fatima i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne un demone disse a Don Giuseppe Tomaselli sotto richiesta di questa domanda qual è il peccato che manda più anima all'inferno? e la risposta del demone fu non occorre che te lo dica lo sai e Don Giuseppe aggiunse secondo me è l'impurità dice vedi che lo sai attenzione a quello che dice adesso tutti quelli che si trovano nel pozzo infernale ci stanno per l'impurità o tutti significa che all'inferno non c'è persona che sta all'inferno che non abbia commesso peccato di lussure pazzesco eh hanno fatto anche altri peccati ma si sono dannati sempre per questo peccato o anche con esso quindi secondo questa testimonianza evidentemente uno liberissimo di non crederci dice ah io non ci credo a Don Giuseppe Tomaselli non voglio credere non voglio stare ascolto ai diavoli uno può fare quello che meglio crede certo che quello che ha detto la Madonna Fatima è un pochino più pesante e quello che dice la Chiesa è comunque da prendere atto cioè che questa materia non ha materia lieve quello che dice e così passiamo alla Sacra Scrittura è questo tutti i dannati hanno questo peccato molti ce ne hanno anche altri ce ne hanno anche altri di varie specie ma c'è chi si è dannato anche solo per questo quindi il minimo comun denominatore se possiamo dire così dei dannati è la lussuria in via quindi capiamo no anche io non vorrei adesso fare pubblicità insomma alla concorrenza ma per chi conosce i riti del del nemico i riti del del nemico proprio strutturati in forma di rito al contrario prevedono fondamentalmente profanazioni dell'eucaristia all'interno di orride e sfrenate orge non aggiungo altro perché è anche troppo no però capite che il sapere alcune cose del nemico serve a contrario a corroborarci in alcune cose che già dovremmo sapere perché se si fanno orge finalizzate alla profanazione dell'eucaristia significa che l'eucaristia e la purezza sono patrimoni fondamentali della vita cristiana e tra l'altro strettamente connessi tra loro perché l'uomo si può completamente scordare di poter vivere la purezza e quindi di poter vincere l'inizio della lussuria se non si nutre di colui che oltre ad essere il figlio di Dio è il vergine verginizzante per antonomasia cioè Gesù Cristo nostro Signore ora torniamo all'obiezione di fondo a tutte stupidaggini la Bibbia non dice niente di queste cose non c'è scritto niente c'è scritto soltanto non commette l'adulterio e quindi i predisi sono inventati la chiesa è inventata tutte cante che le altre cose gli atti impuri così eccola ma non è vero niente perché nella Bibbia non c'è scritto niente allora citando esplicitamente fonti versetti capitoli andiamo a vedere che cosa dice la saga scrittura il Nuovo Testamento quindi fonti variegate perché poi la fonte citata San Paolo molte volte nella stessa lettera ritorna 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 no sugli stessi punti allora citiamo un attimo che ti riconto 1 2 3 4 5 6 brani di San Paolo 1 di San Pietro e poi se abbiamo tempo andiamo anche a vedere quell'anima diciamo molto focosa rampante di Giuda Taddeo scrive scrive nella sua piccolissima e brevissima lettera un solo capitolo in cui però non ha mancato di fulminare ecco con parole di fuoco coloro che si rendono protagonisti alla maniera dei tempi di Sodoma e Gomorra di abbandoni alla lussuria allora prima lettera ai Corinzi capitolo 6 versetto 13 e poi versetti 16 19 fratelli il corpo non è per l'impudicizia ma per il Signore non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo fuggite la fornicazione qualsiasi peccato l'uomo commette fuori del suo corpo ma chi si dà la fornicazione pecca contro il proprio corpo o non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi conclude dicendo glorificate dunque Dio nel vostro corpo ora vediamo bene questo versetto questa sezione quindi esattamente che cosa San Paolo intende no? abbiamo sentito il corpo non è per l'impudicizia ma per il Signore il termine impudicizia impudità si può tradurre in italiano in greco è porneia che tra l'altro è il testo la traduzione cei del 74 non rende tanto bene perché porneia come dire propriamente significa fornicazione fornicazione e fornicazione se si apre l'enciclopedia treccani o qualunque l'enciclopedia una voglia dicione della lingua italiana si troverà che fornicazione è la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio quindi è l'atto che compiono un uomo e una donna unendosi nel rapporto da cui nascono i figli quindi con un rapporto sessuale in senso stretto fuori del matrimonio San Paolo afferma che tale cosa è un peccato grave perché rende e profana il corpo tempio dello Spirito Santo non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che non appartenete da voi stessi glorificate dunque Dio nel vostro corpo quindi abbiamo questo primo riferimento molto importante che dobbiamo tenere che dobbiamo chiaramente tenere presente volevo semplicemente adesso specificare ecco che quando San Paolo dice nel versetto 18 qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo ma chi pecca si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo qui si parla proprio di corpo in senso stretto quindi è Soma in greco ed è in aramaico che è molto importante ricordarlo Pager Pager è proprio il corpo fisico il corpo corpo proprio il corpo 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 la carne il corpo proprio come entità corporea è molto importante tenere presente questo particolare no? Andiamo avanti con il secondo testo stavolta andiamo a Tessalonica perché è un brano tratto dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi primo Tessalonicesi capitolo 4 versetti 3 e versetti dal 3 al 7 attimo che prendo un attimo leggo secondo la nuova versione della CEI del 2008 questa infatti è la volontà di Dio la vostra santificazione che vi asteniate dall'impurità anche qui il termine è porneia fornicazione che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto non come oggetto di passioni e libidine come i pagani che non conoscono Dio che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello perché il Signore punisce tutte queste cose come vi abbiamo già detto e ribadito Dio non ci ha chiamati attenzione vedete qui la traduzione della CEI purtroppo metti in equivoco all'impurità ma alla santificazione e qui l'impurità non è più porneia in greco ma è a catarsia e non è un cavillo come dire da pedante o da sofista perché la congiunzione carnale la porneia è un conto ma la lussuria scusate l'impurità è un altro conto sono due cose ben distinte sono due cose differenti sono due cose diverse l'impurità la catarsia è categoria più grande tanto è vero che il sesto comandamento che è quello direttamente connesso con la lussuria è formulato non con non commettere adulterio e nemmeno adesso nel nuovo testamento abbiamo capito che non soltanto il tradimento del matrimonio quindi il matrimonio non si viola soltanto dopo quindi tu sei sposato e tradisci ma si viola anche prima quindi compilato prima del matrimonio però poi il resto è finito e no il genere più grande c'è la catarsia catarsi è noto no in greco significa purezza cataros c'è un gruppo di eretici del medioevo famosi si chiamavano i catari catari cioè i puri quindi quelli che pretendevano di essere assolutamente puri davanti a Dio no quindi il non puro è chi si trova in questo contesto Dio non ci ha chiamati all'impurità ma alla santificazione attenzione santificazione dice Dio non ci ha chiamati nell'impurità ma all'impurità ma nella santificazione e attenzione il brano esordiva dicendo questa è la volontà di Dio la vostra santificazione il termine è lo stesso agiasmos quindi attenzione questa è la volontà di Dio la vostra santificazione e che vi astegnate dalla fornicazione letteralmente nel versetto 3 e conclude Dio non ci ha chiamati alla impurità ma alla santificazione quindi viola la santificazione non solo la fornicazione ma anche l'impurità attenzione quando si parla dice ciascuno di voi saprà trattare il proprio corpo con santità e rispetto molto belli che si termini no più che rispetto il termine greco è timè timè è più che rispetto è onore ancora sappio datarlo come con rispetto e con onore come una cosa preziosa da non profanare da non da non abbassare da non degradare una cosa che si onora una cosa che sta in alto non non deve essere abbassata è sempre molto bello andare amici cari quando è possibile a vedere i termini originali no e attenzione non senza lasciarsi dominare dalla passione come i pagani traduce la C.E. 2008 l'antica traduzione non come oggetto di passione libidine la vulgata che interpreta bene il testo greco perché il testo greco dice letteralmente me empathy epitiumias cioè non nella passione della concupiscenza letteralmente non nella passione della concupiscenza cioè non facendosi trascinare dalla concupazione dalla passione passione significa il moto che uno subisce violento quindi che ti prende e tu lo vivi senza che la tua volontà ne cooperi ci cooperi con il suo nascere tu lo avverti e ti senti trascinato devi fermarla questa cosa devi opporti quindi non sotto l'impulso della passione della concupiscenza come i pagani che non conoscono Dio che cosa fanno si abbandonano seguono assecondano quella passione e attenzione qui questo è un discorso attualissimo perché oggi la notazione di San Paolo è attenzione che nessuno offenda in questo campo o inganni il proprio fratello è guai quindi che nessuno si permetta letteralmente di trasgredire questo insegnamento o di ingannare quindi di 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 circonvenire qualcuno cioè di fare un'operazione volta alla persuasione che queste sono stupidaggini che non c'è niente di male perché il signore dice è qui il testo della cede del numero 8 dice il signore punisce in greco è ektikos cioè il signore non è che punisce il signore è vindice fa vendetta di queste cose e da questa espressione la chiesa ha imparato che ci sono alcune specie di peccati impuri che gridano vendetta al cospetto di dio questo è il catechismo che è il peccato impuro contro la natura uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di dio cioè stimolano il signore a punirli severamente anche in questa vita primo per impedirne la diffusione e secondo per spronare con con una grande energia il peccatore a lasciare un'autostrada folle il cui esito è il cerchio infernale c'è tempo di andare avanti sì un pochino terzo brano scusate ma come sempre le basi vanno sempre poste in maniera appropriata di questi discorsi ci spostiamo adesso in Galazia andiamo a vedere la lettera ai Galati capitolo 5 versi 19 21 che dicono così del resto sono ben note le opere della carne fornicazione impurità e dissolutezza attenzione perché qui sto leggendo la CEI 2008 stavolta vedete che ogni traduzione è un'interpretazione stavolta la CEI porneia non la traduce con impurità ma la traduce con fornicazione perché perché subito dopo c'è la famosa acatarsia quindi che cosa doveva scrivere impurità impurità no quindi è andato a porneia al suo significato stretto che è immoralità sessuale intesa come fornicazione e l'impurità quindi che è la non purezza e poi la terza cosa quella che viene tradotta come dissolutezza attenzione che in latino si trova luxuria luxuria il termine greco è aselgeia quindi che letteralmente aselgeia significa licenziosità lascivia e quindi lussuria sto vedendo l'ebraico sto vedendo sanuto l'aramaico l'aramaico è un nuovo restamento ok abbiamo queste tre cose fornicazione impurità la vecchia traduzione della CEI 74 traduceva libertinaggio va bene anche questo quindi abbiamo libertinaggio vecchia traduzione del 84 luxuria vulgata dissolutezza CEI 2008 aselgeia in greco zimma in ebraico e zanuhat e zanuhat e zanutach in aramaico quindi c'è questa triplice significazione fornicazione impurità e dissolutezza in generale qui capiamo c'è un'altra categoria ampia vaga cioè la fornicazione si sa bene che cos'è l'impurità è una categoria ma c'è la dissolutezza quindi c'è l'irbertinaggio ci sono delle forme particolarmente degradanti di questo vizio questo è quello che dice il testo del resto le opere della carne sono ben note quindi c'abbiamo fornicazione impurità dissolutezza idolatria stregonerie inimicizie discordia dissensi divisioni fazioni invidie ubriachezze attenzione orge e cosa e cose del genere komoi in greco orge proprio orge in senso stretto in latino si chiamano appunto con un termine derivato dal greco con un grecismo come saziones orge e attenzione subito dopo San Paolo aggiunge riguardo a queste cose vi preavviso come già ho detto chi le compie non erediterà il regno di Dio non erediterà il regno di Dio è una maniera edulcorata quindi elegante sobria di dire non raggiungerà la salvezza ossia andrà all'inferno per essere per usare un termine alla Padre Pio un po' più chiaro ed esplicito quindi più chiaro di così andiamo adesso a Colossi Colossesi 3 5 6 siamo in tempo anche a vedere quest'altro brano abbiamo ancora qualche minuto fate morire dunque quella parte di voi che appartiene alla terra e di nuovo fornicazione impurità anche qui l'acei 2008 io veramente tante volte non capisco allora abbiamo in greco sempre le due stesse parole porneia e acatarsia prima aveva tradotto opportunamente fornicazione e impurità nella traduzione del 74 correttamente c'è fornicazione e impurità adesso in questa nuova impurità e immoralità io tante volte mi chiedo cioè rimango veramente sterrefatto senza parole cioè o hanno affidato la traduzione dei libri come dire a esegeti differenti quindi che magari interpretano traduzioni altrimenti è assurda una cosa di questo genere no? tu quando trovi lo stesso vocabule nello stesso corpus paulinum devi tradurlo sempre allo stesso modo altrimenti veramente anche poi cioè chi non ha questi strumenti esegetici come fa poverino a raguagliarsi qui c'abbiamo di nuovo fornicazione impurità poi c'abbiamo passione non passioni come viene tradotto perché c'è pathos in greco epitiumia quindi anche qui desideri cattivi epitiumia ancaken no e qui c'è attenzione concupiscentiam malam perfetta la traduzione della 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 vulgare la cattiva concupiscenza la malvagia concupiscenzia e San Girolamo interpreta il pathos qui ed è possibile questo qui è quindi non semplicemente il pathos in greco di per sé significa passione ma la vulgata traduce libidinem cioè la libido cioè non una passione qualunque ma l'impulso sessuale quindi attenzione al termine greco fate morire necrosate necros questo è noto in greco significa proprio morto necro significa mettere a morte uccidere sapete quando escono le cosiddette epigrafi si chiamano tecnicamente i necrologi no i necrofidi ci sono gli amici dei morti i negromanti sono quelli che vanno a consultare i morti vengono tutte quante parole che vengono al termine greco necros allora bisogna dare la morte mettere a morte cosa la fornicazione la traduzione letterale l'impurità la libidine la concupiscenza malvagia e poi questo l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato della avarizia quella avarizia insaziabile che è idolatria e prosegue per queste cose viene l'ira di dio attenzione eorghe tuseu anche qui sul tema dell'ira di dio nell'attuale clima buonistico misericordistico a tutti i costi non si può neanche più nominare l'ira di dio ma l'ira di dio è un tema che se uno ci facesse uno studio non soltanto nell'antico testamento ma nel nuovo testamento nel libro della vocalista si parla dell'ira furiosa del dio onnipotente ma ne vogliamo parlare un po' quindi esiste come attirano l'ora di dio sopra attenzione coloro che disobbediscono in greco epi tus uius tes apeteias sopra i figli della disobbedienza attenzione sopra i figli della disobbedienza è più forte l'espressione bene fermiamoci qui ne abbiamo già abbastanza non sono finiti i testi dobbiamo vederne ancora qualcun altro ecco ci riteniamo nel cuore quindi già con questa prima breve rassegna nessuno vada a dire che nella bibbia non c'è scritto che non bisogna fare gli atti impuri perché se uno vuole essere cioè se uno vuole essere corretto e onesto stupidaggini non le può dire ecco quindi se uno poi vuole parlare a vanvera però di farlo però sappia che parla a vanvera quindi chi l'ascolta non dice ah ma la bibbia quindi si mette la coscienza in pace non è così la bibbia non solo che parla ma penso che abbiamo già sentito il tenore e il modo con cui parla di questi argomenti e non è finita qui e lo vedremo continueremo noi ci siamo fermati se Dio vuole già dalla prossima settimana Dio vi benedica e da Madonna tutti mi protegga e ci vediamo se Dio vuole alla prossima grazie